Sette nuovi casi di Covid-19 rispetto a ieri. Questo è quanto emerso dai test eseguiti su 1260 tamponi nei laboratori dei quattro capoluoghi di provincia abruzzesi. La percentuale dei contagi è dello 0,5% mentre ieri è stata dello 0,6 cioè otto positivi su 1332 tamponi analizzati. Dei sette nuovi casi sei attengono alla ASL Lanciano Vasto Chieti ed uno alla ASL di Teramo. Nessun caso nella ASL aquilana e soprattutto in quella di Pescara, la più colpita nell'emergenza. Il totale dei casi è pari a 3193 casi positivi al Covid-19. 191 pazienti, meno due rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, sei in variato rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1216, meno sette rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. In totale le persone decedute sono 388, tre in più rispetto a ieri, una 88enne di Pescara, una 78enne di Pratola Peligna e un 70enne di Montesilvano. I dimessi guariti sono 1.392, 13 in più rispetto a ieri, 1.164 hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Quindi sono attualmente positive in Abruzzo 1.413 persone con una diminuzione di 9 unità rispetto a ieri.